Qui intanto dovete capire che c'è un'ordinanza regionale che deve arrivare, è arrivata l'ordinanza regionale classica, quella che si fa tutti gli anni, ma come vi ho detto nel video di ieri è evidente che la regione Abruzzo debba integrare questa ordinanza regionale permettendo e disciplinando in maniera diversa la nostra abbandeazione per quest'anno. Ho letto anche io, come voi, perché nessuno mi ha interpellato, la notizia sulle spiagge libere, sulla possibilità che si facciano delle app, che si dia un'ingestione di stabilimenti balneari, anche sul punto bisogna attendere, anche sul punto però vi do la mia opinione. Secondo me le spiagge libere devono restare spiagge libere, punto. Non ci deve stare nessuna app, non ci deve stare nessuna gestione da parte degli stabilimenti balneari, perché se io sono un cittadino che voglio col mio ombrellone andare nella spiaggia libera, piantarlo e stare isolato da tutti gli altri lo posso e lo devo poter fare. Quindi io sono contrario a ogni forma di gestione delle spiagge libere. Per la prima volta in grado di comunicarvi che i numeri ieri su Francavilla dei casi positivi al coronavirus non solo non sono aumentati, ma sono scesi. Due persone sono state dichiarate ugualite perché hanno avuto entrambi due tamponi negativi, si tratta di due operatori sanitari e quindi questa bella notizia. Ieri ho annunciato 49 casi attivi sul territorio, oggi ne annuncio 47. Quindi non è detto, ve lo dico subito, che questo numero non possa tornare ad aumentare perché ci sono ancora dei tamponi giacenti presso i laboratori della ASL, però oggi ci godiamo questo momento.